Il primato dell'endurance in Italia, se lo giudica la nostra regione per aver ospitato il primo campionato assoluto Under-14 per aver inserito per la prima volta un percorso di para-endurance per i ragazzi con disabilità. Francesca Ricci. I Cavalieri di Giano fanno brillare l'Umbria, grazie ad un evento che farà parlare di loro e di un endurance mai visto al mondo. Nei giorni scorsi, infatti, a Torgiano, sede del circolo sportivo, si è svolto il primo campionato italiano Endurance Under-14. Ma non solo, il tecnico Alessio Bistocchi, insieme al suo gruppo, ha voluto dare spazio anche agli atleti disabili che si sono resi protagonisti a cavallo di un percorso aperto di 3 km. Sono allibito, piacevolmente allibito, per quello che mi sta succedendo attorno. Vuol dire la gioia, la semplicità, vedere dei tecnici che corrono con i ragazzi, colloquiano con i ragazzi, ma soprattutto la semplicità. Ma il comune di Torgiano, tramite il sindaco Nasini, con la sua gente e soprattutto con l'opera che svolge la Federazione Italiana Sport Equestri in Umbria, credo che sia il fiore all'occhiello, da portare da esempio nelle altre regioni per l'attività delle persone con disabilità. È stato l'invito di Alessio Bistocchi che da un po' di tempo era contento che partecipassi a questa sua creatura. Poi io sto qui vicino, quindi per me non è solo l'amicizia con Alessio, è anche un dovere, insomma, stando vicino di casa a questa manifestazione. Ci sono tanti dei nostri centri che fanno l'abilitazione equestre, ma anche proprio avvicinamento allo sport per questi ragazzi, proprio per portare avanti con loro un discorso di motorietà sia fisica che mentale, che è di supporto e di aiuto molto forte e molto apprezzato sia dalla famiglia che dagli istruttori.